Un convegno a Bari per educare i più giovani alla pratica dei diritti. Il Corsa Santa Lucia ha ospitato i lavori del convegno dalla parte dei bambini, accoglienza e diritto alla salute dei minori migranti. L'evento è inserito nel programma della Primavera dei Diritti, la maratona culturale promossa dalla Regione Puglia che vede Antenna Sud Media Partner. I responsabili locali dell'Unicef e delle associazioni internazionali per la tutela dei minori, Save the Children, hanno esposto alla platea di giovani ascoltatori provenienti dalle scuole baresi le tematiche sociali legate all'accoglienza nel nostro paese, soprattutto quella di immigrati minorenni. Le basi per la tutela dei diritti dei piccoli migranti sono codificate nella Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989 e ratificata finora da 192 stati. Il convegno è stato arricchito dalla presenza dei Terramata, un gruppo che celebra attraverso danze, poesia e musica le tradizioni e la cultura dell'Africa. Ieri intanto il ballerino palestinese Tarek Alabi ha proposto nella Corsa del Santa Lucia il suo spettacolo Finalia Hem No One, l'artista ha portato in scena il suo personale punto di vista sulla drammatica vicenda del conflitto israelo-palestinese.